Ciao a tutti amici, TanoTV per voi! Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia! Adesso invece parliamo subito dei Zengavò! Tante novità da guardare insieme e adesso lo facciamo subito! Eliminiamo dal cervello ciao ciao e facciamo entrare in corpo e lo dico! Inizia un'altra settimana, io sono pronta, prontissima, adesso si parte da casa, si va in Dea e si inizia a studiare! Oh yeah! Oh 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no dunfiato in una giornata intera ed è quello che ho fatto io, l'ho letto ad alta voce una volta ultimato ad Andrea, mi sono emozionata molto in alcuni punti, non so perché, forse perché la mia storia, forse perché a volte è stato a crederci a quello che a volte ho passato e che ho rimosso nella mia mente, però mi è stato tantissimo di aiuto e spero che sia d'aiuto anche a voi. All'interno trovate anche tutti i contatti utili qualora abbiate bisogno appunto di un supporto, anche se vi rendete conto di avere accanto una persona che soffre di un disturbo alimentare, cercate di tendervi una mano e di fare qualcosa, non siate indifferenti di fronte al dolore delle persone, mi raccomando. Vi voglio bene e voglio bene anche a questa piccola creatura, sono molto molto molto, posso dirlo adesso, soddisfatta di me. Bene amici miei abbiamo visto quello che è successo ai nostri Zengavo, io vi ringrazio a tutti per i complimenti, per i like, per i commenti, che mettete sempre nei miei video, vi ringrazio perché siete speciali, grazie, 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 noi ci vediamo molto presto e da Tano TV.